Ancora il nemico non è dentro, è sempre fuori. La patria è salva, non c'è niente. Dio interviene, Dio domina dentro di noi, la persona può essere in comunione con Dio perfettamente. Anzi, la tentazione, l'oppressione e la vessazione possono allenare la persona nella via della virtù. La purificano, sono mezzi di purificazione e di progresso della virtù. Sono le anime sante che spesso sono le più tentate, le più vessate. Di Giobbe sappiamo come fu tentato e vessato. Dio prova l'uomo attraverso la tentazione, l'oppressione e la vessazione. E di Tobì ha detto, poiché tu eri una persona cara a Dio, era necessario che la tentazione, la vessazione, perisse. Quanto più una persona è vicina a Dio, tanto più è esposta all'attacco del nemico. Per cui, quando aumentano le tentazioni, le persecuzioni, le vessazioni, non dobbiamo pensare che Dio sia lontano da noi, no? Ma il nemico ci attacca per impedire all'uomo di progredire dalla virtù e di essere così vissuto dallo Spirito Santo. Andiamo adesso ad una fase di scalfitura, una scalfitura, in cui il nemico ci scalfisce. Cioè, scalfisce le nostre facoltà corruttibili. Ci attacca nella memoria, nell'immaginazione, nell'affettività. Sono facoltà corruttibili. Non penetra, ma scalfisce. Per cui l'uomo è ferito. Ferito. Una ferita. Cos'è una ferita? Una ferita è una scalfitura. Che avviene nell'immaginazione, nella memoria, nell'affettività. Qualche volta anche nel fisico. Perché, come vedremo, i campi del nemico sono diversi. E uno dei campi è anche il corpo. Una delle tentazioni può essere la malattia. Una delle vessazioni può essere la malattia. Cioè, attraverso le prove della salute, egli cerca di debilitarci. Per cui anche la salute fisica può essere attaccata dal nemico. Se attende però, il nemico non può mettere malattie. Va bene? Non può mettere malattie. Perché manipola ciò che trova. Non mette nulla di nuovo. Questo è un principio. Dio non mette nulla di nuovo. Ma manipola quello che trova. Per cui, in noi, per esempio, manipola una tendenza. Non mette una tendenza. Manipola una tendenza. La guisce. Così trova in noi un germe del male. Lo manipola. Acquisce. Oppure impedisce la guarigione. Per cui influenza la nostra salute. Però manipolando quello che trova. Un'infezione che c'è. Però ci sono degli autori che mettono che può anche inoculare delle malattie, può anche produrre la morte. Per me, no. Anche quando ci sono fatture a morte, questo non succede. Ossia non può nulla contro la vita. Però sappiamo da Giobbe che il diavolo fu libero di toccare il suo corpo anche con la lebra. Per cui generalmente manipola quello che trova. Però, con la permissione di Dio, può anche inoculare le malattie e anche avviare verso la morte. Con la permissione di Dio. Però Dio, in questo caso, che dà il permesso, interviene per liberare l'uomo attaccato anche nel corpo dall'attacco del maridio, restituendo la salute, restituendo la vita, come avvenne in Giobbe. Ma normalmente manipola quello che trova. Comunque, cos'è una ferita? È una ferita che avviene o nell'immaginazione, o nella memoria, o nell'affettività, o nella salute. La cosiddetta spina di Satana. Come si guarisce dalle ferite? Si guarisce dalle ferite. Ci sono i mezzi, potete leggere nel libro, come si guarisce dalle ferite. Ma è un modo con cui il nemico comincia a penetrare dentro. Comincia a penetrare dentro, con la sua attività. Qui bisognerebbe vedere cos'è il nemico, cos'è questo demonio, cos'è questo diavolo. Perché noi ce lo immaginiamo come una persona umana, no? Adesso faremo una parentesi per vedere qual è la natura del diavolo. E sì, una persona, però, una persona a modo suo, analogicamente parlando. Noi partiamo dalla persona umana, ma quando parliamo del diavolo, sì diciamo che è persona perché è dotato di intelligenza e di volontà. Ma non è un individuo come noi, non ha un corpo come noi, non ha una localizzazione come noi. Egli si distingue dalla sua attività, per cui impropriamente diciamo che è una persona. Diciamo che è un essere, piuttosto. È un essere intelligente e volitivo, di natura spirituale, un essere di natura spirituale, intelligente e volitivo. Soltanto approssimativamente lo chiamiamo persona. È probabilmente un'energia, è un'energia, un'energia intelligente e volitiva. Un'energia singola e multipla, nel medesimo tempo, come vediamo nelle scritture. Quando parla, usa io, noi, promiscuamente. Sei venuto a rovinarci? So che tu sei. Ecco, il diavolo che parla con Gesù. Sei venuto a rovinarci? Io so che tu sei. Usa il plurale e il singolare. Per cui, quando parliamo di Satana, del diavolo, non dobbiamo immaginarlo come una persona, così che si muove come noi. Tanto meno, poi, quando noi lo materializziamo, diventa con le corna, qualsiasi altra storia. Questa è tutta l'immaginazione nostra. Oppure, anche poi, su una materializzazione, per fare comprendere che in attività, sono tutte immaginazioni, o meglio, oppure materializzazioni, ma in realtà non è così. È un'energia. Queste energie penetra, scalfisce, le nostre facoltà, crea delle ferite. È la prima penetrazione, il primo grado di penetrazione. Dalle ferite si guarisce, c'è un'auta guarigione dalle ferite, mediante i sacramenti. Continuamente, noi feriti, feriti, nelle facoltà corruttibili, possiamo guarire attraverso la grazia sacramentale, attraverso la preghiera assidua. però la ferita può diventare più profonda, cioè, attente a non rendere profonde le ferite del maligno. Il diavolo può ancora entrare più in profondità, attraverso un legame, il legame. Cos'è un legame? Il diavolo lega una persona. Il legame è settoriale, settoriale, settore, rende, quasi, paralizza, diciamo, non il termine preciso, paralizzostia, rende difficoltosa l'attività di una persona in un dato settore. Il legame è sempre settoriale, uno è legato al braccio, ma non è legato alle gambe, non è legato al collo, capito? Per usare un'immagine, può legare un braccio, ma non lega il braccio, lega un settore dell'attività umana, per cui in quel settore la persona si sente come legata, non si sente capace di agire, perché è legata. Ci sono i legami così leggeri che possono avvenire a tutti, incapacità ad agire in un dato settore. Mi sento legato nel fare questo, non ci riesco. attraverso l'autoliberazione ci si può sciogliere dei legami leggeri. Quando il legame è più forte, c'è bisogno di preghiera e di liberazione. Quando la ferita è profonda, c'è bisogno di disinfestazione, ossia di una preghiera di purificazione profonda. Ecco perché non dobbiamo essere così molto leggeri quando noi ci avviciniamo a una persona disturbata, bisogna che noi vediamo il grato di disturbo. Se la persona è ferita, se la ferita è profonda, se la persona è legata o non è legata, se il legame è leggero, se il legame è così consistente. Non si può sciogliere del legame se non si conosce la causa del legame. Per esempio, sono leganti le frequenze con maghe e fattucchiere, legano. legano per esempio le pratiche magiche. Il pendolino lega. Le carte legano cartomanzia. Tutte le arti mantiche legano. Per cui i legami si hanno o con la pratica di arti mantiche, di arti magiche, di pratiche esoteriche, pratiche spiritiche, pratiche di scrittura automatica, ossia pratiche in cui c'è una certa passività nell'uomo per cui il maligno lega l'uomo e poi impedisce di compiere date azioni. Nel caso di un legame bisogna conoscere la causa. Bisogna rinunziare alla causa della rinuncia per cui conoscere la causa, la rinuncia alla causa e la liberazione dal legame. come per la ferita profonda c'è bisogno della disinfestazione della facoltà o della memoria o dell'immaginazione o dell'affettività in cui è avvenuta la ferita che deve essere purificata per arrivare alla cicatrizzazione della ferita. se si va ancora avanti ecco avviene l'infestazione personale infestazione personale c'è un'infestazione locale di un ambiente di un oggetto come dice il catechismo della chiesa cattolica anche un oggetto può essere infestato è una presenza misteriosa si è sotto l'influsso misterioso di un'energia non è il possesso ma è un influsso di un'energia misteriosa l'infestazione è una forma di presenza che non persieda la persona ma disturba alla persona la persona infestata come può essere infestato un oggetto può essere infestato un luogo e allora c'è bisogno della disinfestazione preghiera di liberazione e di disinfestazione della persona un ulteriore passo è l'ossessione è una possessione parziale cioè la persona è ossessa è legata interiormente posseduta parzialmente dal maligno il quale impedisce alla persona di agire ulteriormente può avvenire una possessione caso raro in cui il corpo è invaso l'anima non può essere mai invasa va bene il corpo è invaso e diventa strumento del maligno il maligno strumentalizza quell'uomo quella donna gli va a fare quello che vuole senza che l'uomo possa opporsi l'uomo in quel caso non è responsabile dei suoi atti perché viene manomata la libertà di agire la volontà resta l'intelligenza resta ma c'è una forma di coazione a date azioni che vengono operate dal maligno che si serve del corpo per agire il corpo è mosso dal maligno possessione ma non è sempre stabile perché può essere uno posseduto per un giorno e essere libero per tanti giorni ma sono degli attacchi del maligno il quale possiede una persona in un dato periodo in un dato giorno in un dato anno non dobbiamo noi meravigliarci di questo Dio lo permette lo permette anche per i santi le ossessioni possono avvenire alle anime pie il più delle volte sono per le anime pie per le anime sante anche la possessione può avvenire nelle anime sante pensate a Don Calabria beatificato dal Papa questo due anni fa mi pare che negli ultimi tre anni della sua vita era posseduto dal maligno in dati momenti in dati giornate pensate arrabbiata Maria nel Santissimo Crucifisso la piccola Araba Carmelitana che è sette diversi anni indemoniata pur avendo così intimità con Dio pur avendo fenomeni mistici eccellenti aveva fenomeni diabolici ed è un problema per per i teologi che si interessano di mistica questa simbiosi mettiamo più che simbiosi sì simbiosi tra manifestazione divina e manifestazione diabolica comunque santa beatificata ed era indemoniata quando il diavolo la rovellava erano guai era un'anima bella dolcissima fondatrice di monasteri maestra di novizie ma quando era indemoniata era un guai questo è per dire come anche le anime sante possono subire gli attacchi del maligno fino alla possessione non bisogna perciò meravigliarsi quando vediamo una persona disturbata vessata tentata no però il signore se noi siamo fedeli a lui ci dà il suo aiuto per cui possiamo sempre controbattere l'attacco del nemico in qualunque grado sia quando c'è la tentazione sia quando c'è la vessazione sia quando c'è l'infestazione sia quando c'è l'ossessione sia quando c'è la possessione ma in esanti avviene la soggezione la soggezione avviene attraverso un patto il patto diabolico tiro l'anima se tu mi dai questo questo e questo e allora lì è difficile sottrarre la persona alla liberazione al domino di satana perché c'è c'è un patto però nulla è impossibile a Dio ma sono casi rarissime bene ho voluto farle penetrare nel mondo tenebroso nelle profondità di satana per non avere paura di lui non avere paura di lui poi noi sappiamo che i demoni sono intelligenze diverse e volontà diverse dice sant'ommaso che diavolo differisce da diavolo come Angelo differisce da Angelo ci sono diavoli intelligentissimi ci sono diavoli fortissimi ci sono diavoli deboli ignali così scemi ce ne sono pure poche poche intelligenze ce ne sono pure c'è una gradazione nell'intelligenza e nella volontà sono forse energie deboli energie forti comunque sia adesso noi dobbiamo dimenticare questo ho voluto però introdurvi per dire che in qualunque attacco che noi possiamo subire del maligno c'è sempre lo spirito santo dentro di noi soltanto quando noi ceriamo volontariamente allora facciamo penetrare il peccato dentro di noi e attraverso il peccato diventiamo schiavi di satana ma in qualunque attacco mai si è schiavi di satana soltanto attraverso il peccato ecco perché bisogna combattere il peccato è più pericoloso il peccato che qualunque attacco di satana per cui guerra al peccato perché soltanto attraverso il peccato il diavolo penetra in noi anche quando ci fosse un fenomeno di ossessione di possessione non può entrare nell'anima non può detronizzare lo spirito santo dentro di noi mentre ecco il peccato che Dio ci abbandona lo spirito santo va fuori di noi soltanto ci avessi peccato ma il diavolo non può toglierci la grazia di Dio non può sedere dentro di noi sedere dentro di noi l'anima è inviolabile il mondo soprannaturale dove abita il padre il figlio lo spirito santo non è accessibile al diavolo chiaro è questo? per cui nessuna paura del maligno perché siamo a causa della grazia di Dio più forti del maligno l'uomo è più debole del maligno come semplice creatura umana ma l'uomo in grazia è più forte del nemico è più forte del demonio e non dobbiamo avere paura perché sempre lo possiamo vincere in forza di colui che è dentro di noi lo spirito santo io qui mi fermo all'uomo all'uomo di l'uomo